Ma lo sai ho fissato le ferie? No lo sapevo Ma lo sai ho fissato le ferie? No lo sapevo Dai 10 al 20 agosto e poi a Marina di Pacciana su Boeing Su Boeing ho trovato l'offerta 200 euro 10 notti Dai 10 al 20 agosto Ho il bigliettino qua, ho il bigliettino qui, Bel Bevere Village Me lo lasci? Sì, te lo lascio Grazie Ma tu potessi lì, c'hanno il cucinotto, tu puoi portare il cane O che fa il cane c'è? No, lo piglio ora per andare a balanza Per i pigliasordi? Sì, certo, c'è la piscina È in mare la piscina? Sì, ma sai, uno un po' andare in mare Poi, oh, fanno, ma te, ma te dove vai? No io un po', io un po' Come? No, via, tu va Ma un po' perché io non c'ho voglia di andare Ma sì che ti ha fissato a me tu dai 10 al 20 agosto Bel Bevere Village a Marina di Pacciana Ma senti Un po' dai bigliettino Vai, guardaci, fissa anche se Sì, ora ti dico qua Un secondo, aspetta, un secondo, vai Vai, vai Cacchino, fra l'altro Cos'è bella vista? Sì, mi dica Senta, sì, buongiorno, sono Daniele Angeli Buonasera Avevo fissato dai 10 al 20 agosto Appartamentino sono arrivato? Sì, 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 con il cane appartamentino Ah, ho capito La piscina Volevo sfissare No, io non ci vengo Ma come? Perché non ci vengo Non me ne frego una sega Io non ci vengo con il suo posto di merda Ma come si permette? C'è una penale C'è una penale Non ci interessa Dovete andare a fanculo Insomma, oh, vedi No, nulla, il discorso, capito? Secondo me bisogna tu fissi Ti devi fissare anche te Guarda, te su Boeing io non mi ci fido No Perché a volte te tu fissi su Boeing Tu va là e poi ti sfissano No Perché sì, perché tanta gente gli è rimasta un culata Va vai in vacanza Va vai Io sto a casa Dami letta Ciao